Siete pronti ad una nuova, ma non troppo, fantastica avventura nel mondo dei Pokémon? Ritorniamo a Owen, con una grafica in 3D HD, per poter così ammirare tutte le vecchie location rimasterizzate in 4K, solamente per farci imbiancare lo schermo del nostro 3DS, o 3DS XL, oppure il 2D... No, il 2DS fa schifo al cazzo. Il 28 novembre potremmo finalmente possedere Omega Ruby e Alpha Sapphire, e ottenere in esclusiva una barra argentata di uranio, che si evolverà in un car armato. Ma non solo! Avrete anche Archeogrodon, Archeo Chiogre e Archeo Rayquaza. Inoltre, nuovissime mega evoluzioni che nessuno ha mai chiesto di avere, come... Mega Lopanni, Mega Slowbro, Mega Audino, Mega Frisbee e tante altre. Siete pronti a vedere l'ennesimo capitolo Pokémon dove i giapponesi otterranno leggendari su leggendari, mentre noi riceveremo come evento il nostro solito Pikachu di merda? Sì? E allora bene! 28 novembre! Pokémon Omega Ruby e Alpha Sapphire. In arrivo, in Italia. Ciao a tutti, qui è Teo. Spero che il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, mi raccomando, mettete un bel mi piace, un commento, un'iscrizione. Potrei farne altre di queste mini parodie stupide sui titoli Pokémon. Vedrò pian pianino col tempo se piaceranno. Quindi ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video. Un saluto a Teo. Ciao ciao! Ciao! Ciao!